Ho riconosciuto la tua voce, poi non mi ero in posto, ho pensato forse c'era qualche problema di rete che non andava bene. Buongiorno Marcello, ben risentito, qui in Italia 08, Messico, Silofono Messico, operatore qui Domenico, avanti Marcello con il buongiorno, prego. O K, o K, no no, guarda scusa ero sopra pensiero, tu mi avrai detto il nome ma non l'ho preso, mi devi scusare, mi ricordo la tua faccia, io ti vedo, sto guardando la tua fotografia, ero tu che sei giovane, a K, comunque se ci passo il micro mi direi il nome, l'Italia 08, Mike, extra, Mike, mi chai tu, bravo Mike Alfa, grazie per aver risposto alla mia chiamata. Grazie.